Quest'oggi trasformeremo Minecraft in un mondo Lego Sì, lo so, Minecraft tecnicamente è già più o meno un gioco in stile Lego Perché è fatto tutto quanto di blocchi, diciamo che in molti infatti dicono che Minecraft sarebbe tipo il Lego online Ma io voglio trasformarlo ancora di più, voglio portarlo oltre i suoi limiti E quest'oggi infatti ho aggiunto intanto la mod della fisica realistica Che vi ho già fatto vedere in un altro video e vi è piaciuto veramente tantissimo Ma adesso lo miglioreremo ulteriormente Quindi prima di tutto inseriamo una shader che ho pagato, si chiama la Seus PTG E12 E mettiamo questa qua, che renderà il mondo ancora più bello Guardate, siete pronti? Ecco, adesso con questa shader si è tutto quanto più bello e più realistico Guardate l'acqua quanto è bellina, ti butti, ti tuffi e ti fai un bel bagnetto Questo è praticamente lo stesso pacchetto shader che ho utilizzato per fare Minecraft realistico E adesso invece dovrò inserire una texture pack che si chiama texture pack Lego Fatta da Wababrick Questa qua è, diciamo, la versione demo di questa texture Guardate, già la schermata, cioè, è stranissima Con l'immagine del blocchetto di terra fatto tutto quanto in stile Lego E adesso trasformeremo il nostro mondo in Lego Ecco, ecco, guardate i blocchetti ragazzi E guardate, ascoltate i passi quando cammino Cioè, già intanto sentite i suoni Quanto sono strani Guardate ora i passi Sembra che sto camminando letteralmente su dei cubetti di Lego Guardate ragazzi, è stranissimo Questo qua è un blocco di terra E adesso invece è un blocco di Lego E poi se lo rompi, sentite i suoni No, cioè, è stupendo È veramente, veramente bellissimo Come vi dicevo, questo qua purtroppo è un pacchetto demo Perché non sono riuscito a scaricare la versione completa Che tra l'altro è anche a pagamento Ma non ci sono riuscito per altri motivi Non perché non la volevo pagare Anzi, cioè, l'ho pure pagata Poi non sono riuscito a installarla Però questa versione, già ragazzi, con la versione demo È stupenda Guardiamole Oh, non fate tutto questo casino, per favore, eh Perché mi fate paura Queste sono le foglie Lego degli alberi Guardate che belle Poi, cioè, per non parlare del fatto che la texture pack migliora tutto E scusate, volevo dire le shaders Questo qua invece è il blocchettino di legno Aspetta che lo rompiamo Oh, cavolo Eh, mi ero dimenticato Mi ero dimenticato che con la mod della fisica realistica Si rompe tutto quanto e crolla l'albero Guardate il blocchetto di legno Il blocchetto Lego Troppo, troppo bello E se non sbaglio dovrebbero esserci anche i fiorellini Vediamo se riesco a trovarne qualcuno Allora, no Questo giallo, come potete ben vedere, non è stato modificato È un fiorellino di Minecraft Quelli rossi, però Sì, eccoli Ecco i fiorellini rossi Andiamo a dare un'occhiata Vediamo come sono I maiali li hanno modificati? No, mi sembra di no Vediamo i fiorellini Ecco, guardate i fiorellini, ragazzi Sono proprio dei tasselli Lego Quanti di voi giocano i Lego? Quanti di voi conoscono i Lego? Quanti di voi hanno giocato con i Lego? Penso tutti, dai Almeno una volta nella vita ci abbiamo giocato tutti con i Lego E, non lo so Fa troppo strano vederlo su Minecraft, sinceramente Anche la terra dovrebbe essere Lego Sì, come potete ben vedere La sabbia non lo so No, la sabbia no Perché appunto, come vi dicevo Questo qua è la versione demo Con alcuni blocchi Lego e altri no Però se dovesse installare la versione originale Finale di questa texture pack Allora tutto il mondo diventerebbe Lego Ma già così, sinceramente, ragazzi È abbastanza assurdo Cioè, mi fa strano giocare a questo mondo di Minecraft Poi con la fisica realistica è tutto ancora più bello Allora, vediamo se hanno aggiunto anche degli oggetti Sì! Cos'è un martello? È un martello di ferro Ok Ci sono anche delle spade per caso in più In questa versione demo No, c'è lo scudo però Bellino Vabbè, lo scudo normale di Minecraft Quindi con questo martello cosa posso fare? Posso rompere i blocchi? Guardate che strano, ragazzi Allora, il martello è bello È bellissimo Perché c'è la scritta B però? Nei Lego c'è la scritta B? O c'è la L? Non lo so Non mi ricordo, sapete? Ok, quindi con questo martello Io presumo che posso rompere Sì, infatti Posso rompere qualsiasi cosa voglio E i suoni sono stranissimi Non riuscirò mai ad abituarmi a questi suoni Rompiamo anche un albero Vediamo Bellissimo Troppo, troppo bello Vediamo invece se rompo un albero normale Se fa lo... Sì, il suono lo fa Ok Quindi anche se non è stato ritexturizzato In versione Lego Fa comunque quel suono E devo dire È un po' pesantuccio Quanti FPS ho? 75 FPS Abbassiamo magari i cianco un pochettino Allora Voglio vedere in caverna Proviamo a scavare un pochettino Facciamo così Scaviamo dei blocchi Mi do la Night Vision Quindi Night Vision 999 250 È true Non cambia nulla? Continua a non vedere Prendiamo una torcia Vediamo se ci sono le torce Oh! No! Ragazzi la torcia Lego La tor... Che stra... Ma è gigante È troppo grande questa torcia E guardate come si piazza ragazzi Si piazza in questo modo Come un mattoncino Dei Lego Ovviamente Ok Beh Mi piace Mi piace tantissimo questa cosa Facciamo così Andiamo in Game Mod Spectator Vediamo se riusciamo a trovare Delle caverne E degli altri blocchi Lego Allora Ah! Anche la pietra Certo Quindi la pietra Come vedete Anche questa È Lego Le rotaie No Perché vi dicevo appunto Questa è una versione demo Invece questo che cos'è? Oh! Oh! Cavolo Ho fatto crollare tutta la miniera Scusate Allora Quindi Fatemi Oh! Chi è? Ragnetti? Allora Fatemi piassare un attimo delle torce Che bella l'illuminazione così Quindi Il ferro È Lego La terra è Lego Cos'altro c'è di Lego? Sicuramente Qualche altro Materiale Quindi se scrivo Ore Allora Ci abbiamo soltanto il ferro Solo il ferro? Ok Quindi se prendessi un piccone Scusate Pic Perché non mi fa prendere il piccone? Scusa È stato modificato? Ah! Gli hanno modificato i nomi Ok Ma io posso romperlo per caso Con quello di prima Che ho visto Con questo? Cioè posso prendere i minerali? Sì! Posso! Ok Oh mio Dio Però crolla la miniera Ogni blocco che scavo Si distrugge tutto Praticamente Guarda Crolla Mi crolla tutto in testa Cioè la mod della fisica reale È bellissima ragazzi Però forse è un po' troppo esagerata Vediamo cos'altro ci abbiamo qua Che strano ragazzi Vedere le caverne così Il creeper No! Cavolo Oh sono curioso di vedere il nether Guardate la lava Che bella Sono curioso di vedere il nether Facciamo così Prendiamo dell'ossidiana Ok l'ossidiana a quanto pare Non è stata modificata Facciamo il nostro portale Flint and steel Ok Sbaglio le particelle del nether Sono state modificate in sile lego Oh chi è che mi attacca? Qua fatti sotto Prendi questo Ti prendo a martellate Ti prendo Pensi che io abbia paura? Ok sì C'ho paura Ok l'abbiamo ucciso Fantastico Sapete cosa? Magari prendiamoci un'armatura Che dite? In netherite? Ma sì Direi che mi sembra il minimo Prendiamo l'elmetto in ferro Ovviamente Abbiamo questo Poi Resistenza al fuoco Assolutamente E delle mele d'oro Tanto ragazzi Stiamo facendo praticamente Tutto in creativa Ok Entriamo nel nether Sono curioso di vedere questo nether Se qualche blocco è stato modificato Oh che bella anche L'ha scritta L'ha schermata Allora Vediamo Cos'è stato modificato Del nether Forse nulla Oh cavolo Devo fare attenzione Certo a distruggere il nether Quase no Mi crolla tutto in testa Che bello ragazzi Con queste mod Guardate Oh Aspetta Scusa Cosa? Perché la torcia è tornata normale Del nether? Eh? Vuol dire che È diverso Quando la piazzi nel mondo normale Quando la piazzi Oppure È in base ai blocchi Vediamo Se piazzo qua un blocco lego La torcia poi diventa lego? Ah Ok È in base ai blocchi Ah Certo Perché la torcia Si va ad appiccicare Su questo cosino qua Quindi è come se No ok Che cavolo sta succedendo? Ho bagato tutto ragazzi Ho bagato ufficialmente tutto Non lo so Pensavo fosse così Invece evidentemente no Uh che strano Guardate la dirt Ok Allora vediamo in creativa Quali blocchi sono Lego Quindi questo è Lego Sì Questo è Lego 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 Cos'altro abbiamo Qualche altro blocco sicuramente Ok Il poppy Quindi i fiorellini rossi La torcia C'è qualcos'altro Che non sto vedendo? Sicuramente c'è qualcosa Che non sto vedendo Vabbè i bottoncini Cioè i pulsanti Tecnicamente sono Lego Perché hanno già quella forma Mi sa che le sorprese Sono finite Però è stato veramente interessante È stato super bello Giocarci e vedere queste cose Quindi abbiamo Il blocco di legno Il blocco delle foglie Il blocco di ferro La pietra Grass Dirt Il fiorellino Che si appiccica appunto Sui cosini di Lego La torcia Che a volte è normale A volte è Lego Non capisco sinceramente Boh Vabbè Un po' strano E non so I pulsanti Non credo siano stati modificati In Lego Beh ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un super mi piace Se così è stato Magari in un prossimo video Creo una casa Interamente fatta di Lego Sarebbe super super strano Dal vostro channel è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao Ciao